Un saluto dalla LentiCar, vi presentiamo oggi questa Honda Forza 300. Il design è davvero accattivante e le sue linee creano un look slanciato ed aggressivo. Per la tua sicurezza è dotato di sistema ABS e freni a disco, mentre per la sua sicurezza è attivo il servizio elettronico HISS che impedisce l'avviamento della moto in caso di utilizzo di chiavi non originali. Uno scooter molto spazioso, ideale per i viaggi in compagnia e per il centro città. Dispone di molto spazio nel sottosella, nei cassetti sul manubrio e nel bauletto. Quindi zaini sistemati, caschi riposti, cavalletto su ed ha iniziato le tue avventure. Non serve l'estate per assaporare il gusto di un buon viaggio in moto, quindi affrettati e vieni alla LentiCar! Ciao!